buona giornata a tutti oggi celebriamo la memoria di un santo più decimo che appunto prima di essere papa più decimo fu cardinale e patriarca di venezia ascoltiamo il vangelo che viene proclamato oggi dal vangelo di matteo capitolo 22 in quel tempo i farisei avendo udito che gesù aveva chiuso la bocca e saducei si riunirono insieme e uno di loro un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova maestro nella legge qual è il grande comandamento gli rispose amerai il signore tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente questo è il grande il primo comandamento il secondo poi è simile a quello amerai il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti la domanda che i saducei pongono a gesù è una domanda posta per metterlo in difficoltà i saducei insieme ai farisei osservano 248 precetti e 365 proibizioni tale osservanza che si impegna in tanti atteggiamenti in tanti comandamenti procura la giustizia ma gesù quel maestro che già aveva contestato certe osservanze rituali come lavare le mani le stoviglie i bicchieri come segno di purificazione quel maestro che aveva permesso ai discepoli di raccogliere spiga in giorno di sabato che aveva guarito in giorno di sabato ecco come si poneva di fronte a tutte queste proibizioni a questi precetti a questa via di giustizia che si basava appunto su dei comandamenti lo interrogano per metterlo alla prova non per essere aiutati a conoscere la verità cioè la volontà di Dio che salva poniamoci di fronte a questa provocazione fatta a Gesù chiedendo nel nostro cuore se anche noi siamo veramente interessati a conoscere la verità se veramente vogliamo conoscere ciò che Dio vuole da noi perché ogni epoca è attraversata da falsi maestri che descrivono quali sono i comportamenti da avere per essere felici ogni epoca è attraversata da eresie cioè da cammini di verità parziali che non aiutano a conoscere veramente ciò che fa bene l'uomo ma si piegano alla mentalità del mondo noi oggi ricordiamo un santo più decimo che si è impegnato a far conoscere la verità e a lottare contro le false dottrine cioè contro quelle false strade che piegandosi alla mentalità dell'epoca mostrano quello che bisogna fare ritorniamo alla domanda allora che cosa bisogna fare quali sono i comandamenti che mostrano realmente la via di Dio Gesù risponde il comando è l'amore si può comandare l'amore perché non è un comando fuori da noi altrimenti non avrebbe senso perché l'amore non si può comandare non lo dobbiamo cercare lontano è un comandamento vicino a noi è in noi amare è un comando perché siamo stati creati per amare siamo stati creati a immagini di Dio che è amore dunque amare corrisponde al nostro essere noi siamo nati siamo venuti al mondo per amare per essere amati e dunque ciò che Dio chiede corrisponde a ciò che noi siamo e dobbiamo ricordare con convinzione questa affermazione perché il rapporto con Dio il suo comando non diminuisce la nostra umanità ma la esalta la purifica la rafforza la indirizza la corregge la sostiene qual è il grande comandamento Gesù ne propone uno il grande e primo comandamento dice è amare Dio con tutto il cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente ma immediatamente dopo ne propone un secondo dicendo che è simile e dice amerai il tuo prossimo come te stesso e la conclusione è da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti dunque è stato richiesto di dire qual è il primo e Gesù a seconda questa risposta ma dice uno il primo e il secondo facendo unire questi due comandamenti tutto dipende da questi due comandamenti presi insieme è decisivo dunque per amare tenere insieme questi due comandamenti è stata l'esperienza di Gesù il suo desiderio più profondo il cibo della sua vita era fare la volontà del padre per questo ci ha amato fino alla fine cioè fino a dare la vita per noi per la salvezza di noi uomini sono state importantissime certamente le guarigioni o quando ha sfamato le folle i suoi discorsi quando ha insegnato ma sono state decisive anche le notti con cui Gesù ha che Gesù ha passato in preghiera unito al padre ed è stato quel grido rivolto al padre sulla croce che ha raccolto tutta la sua vita in un amore forte e decisivo verso il padre che è stato salvezza per noi chiediamo al Signore che quell'esigenza profonda che abbiamo di amare di essere amati si rafforzi nell'amore verso Dio solo partendo dalla relazione con lui avremo la forza e la luce per realizzare la nostra vocazione per amare i fratelli il prossimo che Dio ci dona dobbiamo stare attenti perché la mentalità di oggi non ci aiuta ci possono essere dei genitori che sono convinti di avere tutte le capacità per amare i figli non percepiscono che quella forza di amore che provano verso i figli nasce dal rapporto che hanno con il padre e si purifica si rafforza e trova la verità proprio nella misura in cui amano i figli come li ama Dio a partire dal loro rapporto con Dio che bello quando dei genitori testimoniano i figli che la loro relazione di amore è fondata sulla relazione con Dio ma anche le coppie quante coppie si mettono insieme ma sono persuasi che per stare insieme basta il loro affetto il loro amore non sentono il peso invece della loro fragilità così da invocare nella loro via nel loro progetto di amore la presenza la forza la grazia di Dio solo amando Dio mettendolo al primo posto allora potranno amarsi veramente ecco oggi non è scontato e che credo che oggi questo vangelo possa essere utilizzato proprio in primo luogo alle persone sposate voi siete consacrati i matrimoni è un sacramento per essere segno di che cosa capita quando si ama veramente Dio allora si è capace di far famiglia si genera comunità si creano relazioni di amore ecco che riscopriamo che la nostra vocazione quella dell'amore si realizza quando teniamo insieme questi due aspetti amare Dio e amare il prossimo